Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e ragazzi, in questo video vi farò conoscere meglio il mio cagnolino Wolfie Perché non conosce già Wolfie? Lui in realtà si chiama Wolf King Amadeus cioè, mi ho dato questo nome per Wolf King Amadeus Mozart, il compositore però lo chiamo solo Wolfie, che è più carino e niente, si chiama Wolfie, oppure si può anche dire solo Wolf King ma io lo chiamo sempre Wolfie e lui è di razza spitz tedesco di Pomerania Nano ed è un piccolo cucciolone cattivone, monello e carino e pasticcione e adesso vi faccio vedere un po' che cosa fa questo piccolo bambino allora ragazzi, non so se vedete Wolfie molto agitato perché ogni volta che vede il flautino fa questo e allora, certe volte, quando suono il flauto, anzi sempre quando lo suono si mette ad ululare, a piangere, a fare un casino e vuole capire che sta succedendo secondo me pensa che stia piangendo e quindi è triste perché sembra tipo che stia ululando, non lo so va bene Wolfie Wolfie e fa sbagliare e quando mi devo soffiare al naso guardate un po' che cosa fa questo piccolo lumonello non è tua no, dammi questa carta cattivo dammela ma che c'ha di buona questa cosa schifosa è solo carta quindi basta ok? tanto vuoi si deve bruttare e ragazzi, non so perché vuole sempre la carta, non ha niente di buono no, è solo una cosa, non lo so carta e la vuole sempre forse è la cosa che preferisce di più la carta io la devo regalare a Natale anzi, ha il suo compleanno che è a maggio il 5 maggio ti regalo un bel rotolo di carta igienica sei contento? ok ragazzi adesso diamo un po' a Wolfie la pappa anche se io l'abbiamo già data a pranzo e non è mell'ora di pranzo in medicina però te la diamo lo stesso vi faccio vedere un po' che cosa fa eccola qui è tipo tonno, non so allora gira, 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 gira seduto su gira, 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 gira seduto vieni qua aspetta, non girare gira, gira non abbagliare seduto bravo ti è piaciuto? ecco qua piace? sei proprio un affamato è un corosone però adesso guardate che cosa fa questo piccolo cane cattivone dammelo 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 sputa sputa dammi questo piatto dammi questo piatto no, non scappa vieni qua adesso come facciamo adesso ti prendo ok ragazzi adesso vi farò vedere un po' tutte le cose che ho insegnato a Wolfie adesso adesso gira gira seduto su gira, gira, gira gira, 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 gira seduto su gira, gira, gira salta salta che bravo adesso gira seduto su che bravo che sei ups adesso vi faccio vedere un po' come dà la zampa dammi la zampa dammi la zampa dammi la zampa bravo prendo uno piccolo perché adesso lo dico di nuovo ok Wolfie, Wolfie dammi la zampa bravissimo dammi la zampa dammi la zampa ma che bravo che sei ups ecco qua tieni ecco qui un piccolo Wolfie con il suo pigiamino preferito è già pronto per fare il suo riposino a pomeriggiano ed è stanchissimo appena mangiato ti piace il tuo cuscino morbido e il tuo pigiamino celeste? quanto sei bello e ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video se vi è piaciuto mettete tantissimi like e se volete ricordatevi di iscrivervi a questo canale e Wolfie è un piccolino che adesso come vedete si sta per addormentare quindi lasciamo riposare e ragazzi ci vediamo nel prossimo video saluta Wolfie eh sì alla prossima ragazzi